nella lezione precedente abbiamo introdotto gli operatori di comparazione aritmetici e stringa in questa vedremo il loro funzionamento in contesto booleano andando a curiosare dietro le quinte attraverso dei piccoli scamotage buona visione come detto in precedenza il perl non ha dei tipi di dato booleani separati e definiti come invece puoi trovare in altri linguaggi ma segue tre regole precise per stabilire se una condizione vera o falsa ovvero se il valore è 0 allora è false tutti gli altri valori sono true se si parla di stringhe una stringa vuota e la stringa 0 vuol dire false in tutti gli altri casi è true se una variabile non ha valore è false inoltre è possibile portare alla luce ciò che accade dietro le quinte attraverso un piccolo trick di programmazione è infatti possibile catturare il ritorno booleano di un'espressione all'interno di una variabile nello script che ho preparato assegno alla variabile boolint il ritorno dell'espressione 2 inferiore di 1 mentre assegno alla variabile bool stringa il ritorno booleano dell'espressione free equal free successivamente stampa a schermo il contenuto delle variabili vediamo quello che succede come vedete l'esempio 1 dove ho stampato boolint non ho ricevuto niente in output poiché 2 inferiore di 1 è false e quindi mi restituisce il nulla in output mentre nell'esempio 2 ho stampato bool stringa che è free equal free effettivamente free è uguale a free quindi mi restituisce in output 1 ovvero true ma adesso voglio farvi fumare un po' il cervello introducendo le leggi di de morgan in sostanza le leggi di de morgan affermano che la negazione della disgiunzione è la congiunzione e viceversa abbastanza complicato in realtà no guardiamo come applicare queste leggi modificando proprio leggermente lo script di prima allora come vedete è tutto uguale a prima for che qua nel nell'istruzione stampa ho aggiunto l'operatore punto esclamativo che è l'operatore di negazione prima della variabile questo operatore di negazione che fa nega appunto e lo stato di una variabile quindi come viene calcolata questa espressione stampa la negazione della variabile bool int quindi bool int prima restituiva 0 false in questo caso negato restituisce 1 stessa cosa a nell'esempio 2 nella variabile bool stringa restituisci mi la negazione di bool stringa quindi che fa prende bool stringa che restituiva true ovvero 1 lo nega e lo fa restituire false vediamo se tutto torna come vedete sono stati invertiti l'esempio 1 restituisce 1 che sarebbe la negazione di 0 e l'esempio 2 invece restituisce false ovvero la negazione di 1 ovvero true dopo aver fatto un po' di chiarezza sulla questione booleani vediamo come rendere il nostro programma interattivo con l'utente per richiedere l'input da tastiera si utilizza l'operatore parentesi angolare stdin parentesi angolare che sta per standard di input l'operatore stdin può assumere diversi significati ma almeno che non si stia tentando di fare qualcosa di particolare significa aspetta un input da tastiera vediamo subito l'esempio ho preparato questo script che ok per prima cosa stampa inserisce il tuo nome ma semplicemente per una finalità estetica dopodiché crea la variabile nome a cui assegno l'operatore stdin ovvero il nostro input da tastiera e poi stampo il contenuto della variabile nome vediamo subito l'esempio al lavoro inserisce il tuo nome metto luigi e in output abbiamo luigi ma avete notato nulla di particolare come vedete luigi va a capo automaticamente questo perché l'operatore stdin aggiunge il carattere new line automaticamente alla fine del nostro input e non vedo occasione migliore per presentare un nuovo operatore l'operatore chomp l'operatore chomp è un operatore specializzato agisce su una variabile e ne elimina il new line eccovi uno script per farvi vedere il funzionamento di questo nuovo operatore praticamente non è molto diverso dallo script che vi ho fatto vedere prima ho aggiunto solamente un altro stdin che assegno alla variabile nome 2 e la differenza è che il primo lo stampo così com'è ovvero assegno stdin alla variabile nome e poi stampo mentre nome 2 assegno il nostro input da tastiera poi richiamo l'operatore chomp sulla variabile a cui abbiamo assegnato il nostro input e poi stampo vediamo che cosa succede ok fase 1 mi chiede di inserire il mio nome e l'input che inserirò andrà dentro la variabile nome quindi mettiamo luigi e lo stampa e aggiunge automaticamente il new line adesso arriviamo allo step 2 dove mi chiede il mio nome e l'input che inserirò da tastiera verrà inserito dentro la variabile nome 2 mettiamo il mio nome mettiamo mario come vedete ecco il risultato mario stampato sulla stessa riga di nome utente nome pc questo perché l'operatore chomp ha eliminato automaticamente il new line un ultimo dettaglio prima di salutarci cosa accade se al momento della richiesta di inserimento di input da tastiera noi non inseriamo nulla ovvero premiamo invio senza inserire alcun valore guardiamo inserisce il tuo nome premiamo invio come vedete non fate l'errore di pensare che dentro la variabile nome non sia assegnato alcun valore in realtà aggiunge ugualmente il new line quindi dentro la variabile nome avremo il carattere new line la dimostrazione è anche questo spazio che c'è tra inserirci nome e il mio nome utente il mio nome pc io direi che per questa lezione è tutto e ci vediamo alla prossima